Musica I'm a Trump's the motherfucker Musica Musica Ben ragazzi bentornati sul mio canale Siamo qui oggi in canottiera Perché fa troppo caldo quindi sti cazzi ragazzi Sono in canottiera comunque spaccate il like Tutti i link li trovate sempre in descrizione Oggi si riparte con un nuovo episodio Della carriera YouTube Italia Nello scorso episodio Anima aveva fatto il devasto Andando a passare i trattori come sempre Anche MotoGP c'è anche Sotto casa mia c'è tutto Comunque si parte raga andiamo subito a cercare un nuovo avversario Non abbiamo più modificato la nostra Rosa qua intanto maglie Praticamente uguali Ok e andiamo ovviamente In attacco Dexter, Tatino, Ron Si parte raga spaccate il like Ok amici siamo tornati allo stadium Vitesse contro YouTube Italia Si parte in attacco con Tatino E Just Ron Si parte Ron Non c'è una Ron, Ron, ancora Ron Ron, Ron, Ron Sarà calcio d'angolo Si parte col botto Grande Ron Allora Vegas dà la bandierina Val cross C'è Dexter che è più basso Però Rischia anche qua il gol E c'entra Tatino Attenzione Tatino c'è un ottimo tiro Lo prova Niente da fare Anima ancora lui Anima La palla è rimasta lì Niente Ron Tatino Attenzione Eccolo l'ho visto Dexter 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 Fa troppo caldo Ci saranno 40 gradi fuori Aperto tutto Fa troppo caldo Comunque migliore in campo Per adesso ovviamente Dexter Si parte col secondo tempo Raga spaccate la Ic Si riparte Ancora lui Step Vede Tatino L'ha servito Molto bene Tatino Tatino 2-0 Youtube Italia 2 2 Vitesse 0 Tatino l'ha messa dentro Non poteva sbagliare Raga Da lì non potevo sbagliare Olinic Proper Attenzione Vacco Vacco Attenzione La palla è lì Minchia traversa Joker Spazzala Grande Johnny Crick Attenzione Proper Olinic Fermo Mamma mia Mike Shosh Alla cross In mezzo Attenzione La palla è lì Mike Grande Ma il cross C'è Ventigno Chiudiamolo Anima cosa fa Attenzione Verovic Mike Shosh In calcio d'angolo Daudà Ball cross In mezzo Tensione Mike Finisce qua La partita Ragazzi Game over 2-0 Tatino E Dexter Andiamo subito avanti Questi sono gli altri risultati Feyenoord 3-0 AZ ha perso 1-0 Con l'Ajax Willem Ha vinto 1-0 Andiamo avanti Raga Siamo Comunque Lì In classifica Nelle zone alte Nelle zone Passano sempre Sotto casa mia MotoGP Allora Siamo contro il Feyenoord Noi siamo Settimi Io voglio Schipparla Voglio vedere se Schippandola La vinciamo La perdiamo Di solito L'abbiamo tutte perse Ma sono curioso Guardiamo Allora Vediamo come si fa Ecco 1-0 Infatti 1-1 Palaz Attenzione C'è anche il rosso Ricordiamo Vediamo chi segna 45 6 7 Stiamo andando avanti Attenzione Vai raga Ribaltiamo la situa 2-1 Dub Il gol di Dub Attenzione Vediamo se si vince Sì 2-1 Palaz E Dub Non ci credo Dopo un po' Si vince anche Schippando Schippiamo anche questa Raga E ci salutiamo Dai Vediamo se Schippando anche questa Sì va avanti Dub Super prestazione Intanto Allora Vediamo Se Dub Segnerà di nuovo Ovviamente Dalla panchina Vediamo Attenzione Eh Anima L'ha messa dentro 1-0 Di Anima Giallo per Karami Attenzione Vediamo se arriva Il 2-0 Attenzione Tanto è già fuori I cambi Dentro 1-1 2-1 Vegas Ottimo E finisce così 2-1 Ancora Stavolta Anima E Vegas Stiamo Rialzando La classifica Stiamo Rialzando La classifica Dav è deluso Perché vuole Giocare In dolare Siamo Quarti In classifica Raga Io direi Di salvare Raga E Prossima partita Ce la giochiamo Insieme Per questo Episodio è tutto Spero che vi piaccia Comunque Di Questi episodi Vi piacciono Schippandole Giocandole Ragazzi Questi sono episodi Per divertirci Io spero che vi sia piaciuto Spaccate like Iscrivetevi Perché se no Siete game over Ovviamente Ditemi se devo fare Qualche spostamento Qualche cambio Noi lo faremo Adattatene tutto Tutti i link In descrizione Bella Stampeed 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 Grazie a tutti